Buongiorno, ben ritrovati. Oggi Fabio Ranfi è stato raccattato per un altro impegno improcrastinabile e quindi diciamo che la giornata sulle periferie oggi è martedì 5 marzo 2019. Siamo alla sessantottesima trasmissione, cogliamo l'occasione dalla pubblicazione di un inserto del Corriere della Sera per focalizzare la nostra attenzione sulla vicenda delle periferie. Vicenda delle periferie che è sempre un pochettino trattata in qualche maniera senza, secondo noi, un dovuto approfondimento. Vediamo un titoletto del Corriere della Sera, proprio una spallettina, non è periferia, dove indica che ci sarà una sezione dedicata a storie del riscatto dei quartieri periferici in un'ottica di città policentrica. Allora, il tema probabilmente non è che non è tanto periferia, perché altrimenti non avrebbero anche senso una serie di pubblicazioni, ma soprattutto una serie di lavori in essere. Citiamo qui il governo della città e delle sue periferie, della fondazione Gianfranco Dioguardi, ma anche per i periferain, pensare diversamente alla periferia. Se non ci fosse un tema delle periferie, allora il tema appunto delle periferie è che non è collegabile a degrado. Allora, se uno dice nelle aree degradate della città, ci può essere un riscatto, questo lo vediamo tutti i giorni, anche se poi alcune semplificazioni portano a dire che cosa. Per esempio, il vincitore Mohamud del Festival di Sanremo abita a Grattosoglio, ma il locale paroco aiutore della parrocchia ha evidenziato questo aspetto. Non è Grattosoglio, ma è basmetto. Mohamud abita a Basmetto, che è vicino a Grattosoglio, però è in tutta un'altra condizione. Allora, una lettura dall'esterno, da distante delle periferie ci porta a che cosa? Ci porta avere un quadro che non è adeguato a una riflessione e soprattutto a un'iniziativa. Ecco, questo volevamo dirlo perché altrimenti continuiamo a parlare ormai da lustri, da decenni, di periferie senza riuscire accoglierne un pochettino il bandolo della matassa. C'è un interessante anche intervento da parte del sindaco Sala. Noi ci soffermiamo naturalmente su quelle che sono gli aspetti periferici, diciamo così. Il tema delle periferie fa un simbolo, titola la pagina, un simbolo in ogni periferia, solo New York è più viva. E tra le altre cose, cita che la città multicentrica chiede icone, musei o distretti in ogni quartiere. Ecco, nella scorsa puntata abbiamo ospitato il museo della macchina da scrivere, che è in una sede presso lo scalo Farini, in zona Farini, dove ha la possibilità di esporre 600 delle 2100 macchine da scrivere, che sarebbero a disposizione di tutta quanta la cittadinanza, ma non solo, perché vengono da tutta Italia a vedere questo, che probabilmente se non è il più importante museo della macchina da scrivere in Italia, ma crediamo che sia tra i primi sicuramente, anche perché non sono molti i musei della macchina da scrivere, quindi Milano ha sicuramente quelle che si vogliono dire le eccellenze, cioè delle cose significative. Ecco, da questo punto di vista c'è un altro museo, si è svolta dall'1 al 3 marzo la Milano Museo City 2019, con 80 musei che hanno partecipato e quindi ci sono state tutta una serie di iniziative piuttosto interessanti, che hanno coinvolto la popolazione, incontri, visite guidate. Ecco, noi abbiamo il Museo del Manifesto Cinematografico, che aveva sede in via Gluck, il Museo Fermo Immagine, Museo appunto del Manifesto Cinematografico, che ha una documentazione di circa 150.000 tra manifesti, locandine e quant'altro. Purtroppo nel 2017 il museo ha dovuto abbandonare la propria sede perché, come recita la famosa canzone questa è la storia di uno di noi, il ragazzo della via Gluck, e anche lì che cos'è che è nato? È nato un palazzo, dove c'era il museo oggi c'è un palazzo e così è la vicenda. Il Museo del Manifesto Cinematografico, che tra l'altro era un luogo di riferimento per in particolare il quartiere greco, per tutta una serie di attività, lì hanno trovato spazio numerose associazioni, tra cui abbiamo ospitato anche l'associazione Quattro Tunnel, per fare tutta una serie di iniziative, a partire dal rilevato ferroviario, però anche di riqualificazione del territorio, la piazzetta degli artisti e altre iniziative, erano ospitate come base di riferimento, di discussione, lì nella sede di via Gluck del Museo del Manifesto Cinematografico. Allora, lì aveva fatto anche un lavoro nel quartiere la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, che aveva dato tutta una serie di suggerimenti, mettendo in campo decine di universitari, che, tra le altre cose, avevano sostenuto anche l'esame del corso, proprio nella sede del Manifesto Cinematografico. Ecco, questo per dire come delle presenze, sicuramente sono, come anche i musei, sono sicuramente importanti, possono avere un rapporto con il territorio, possono essere al servizio del territorio, c'è solamente un problema, che il Museo del Manifesto Cinematografico, che aveva svolto un importante ruolo a Greco, oggi come oggi non ha sede. Sono state investite le istituzioni, il Comune di Milano in particolare, era stata anche individuata un'ipotesi di sede, appunto, per un lavoro certosino di ricerca, da parte delle associazioni che hanno un rapporto con il Museo del Manifesto Cinematografico, ma purtroppo, oggi come oggi, la sede non ce l'ha e i manifesti cinematografici non possono essere visti, ma nello stesso tempo anche il quartiere ha perso un punto di riferimento. Allora, Walter, complimenti per il tuo momento, il tuo monologo è stato ben apprezzato, l'ho detto alla redazione, scusatevi, ho dovuto assentare un secondo, ho avuto un problema in redazione, però vi ho lasciato in ottime mani, insomma, l'avete sentito? Quello dell'esempio, ad esempio, parlavi proprio poco fa del Museo del Manifesto Cinematografico, ne abbiamo parlato tante volte, ricordo un po' la storia che abbiamo raccontato qualche settimana fa, del Museo della Macchia da Scrive, insomma. Cioè, come abbiamo parlato adesso, adesso ci riaggiorniamo, come si suol dire, è il bello della diretta. È il bello della diretta, sì, veramente. Oggi è successo di tutto, però sono contento che Walter è riuscito ad andare avanti da solo e raccontarvi appunto quello che appunto oggi gira un po' sulle pagine. Siamo arrivati quindi alle parole di Sala. La parola di Sala, appunto, titolo sul museo, del museo adesso ne abbiamo parlato, dopodiché Sala, nel suo intervento, cita anche due aspetti sulla questione delle periferie, che sono alle persone piace a vivere all'Ortica, piace a vivere anche a Baggio. In nomina Baggio, proprio. E quindi c'è sul tema della città policentrica, qui una sottolineatura che ha esattamente i risvolti dell'amministrazione comunale. E cioè, noi facciamo un'affermazione di principio. Se una città è policentrica, deve essere attrezzata anche come amministrazione comunale in maniera policentrica. Non può avere un'amministrazione centralistica. Nei fatti, l'abbiamo visto, nel momento in cui l'organizzazione dell'amministrazione comunale, come sono normalmente le amministrazioni comunali, che scontano, qui abbiamo un testo, il governo della città complessa, c'è anche un intervento del professor Alessandro Balducci, che è stato anche del professore del Politecnico, che è stato anche assessore all'urbanistica del Comune di Milano per un breve periodo. Ecco, per quanto riguarda le città policentriche e l'amministrazione, cosa dice Alessandro Balducci? Che l'attrezzatura culturale e tecnica di chi amministra le città, quindi ne fa un discorso più ampio, non è riferito esclusivamente a Milano, è rimasta la stessa, con le sue settorialità, con le sue piante organiche, le sue strutture formate da competenze separate. Ecco, questo è proprio il tema dell'amministrazione comunale, che noi possiamo rappresentare come una serie di canne d'organo, che tra di loro non comunicano. Allora, qual è il tema da questo punto di vista? Ortica, Baggio. Mi abbiamo parlato in una trasmissione del 2018, dove un consigliere comunale, in una lettera sul Corriere della Sera, diceva Baggio è centrale a se stesso. Però, proprio in quel periodo lì, ci fu il caso di una scuola, la scuola media di Piazza Sicilia, che non aveva la dirigente scolastica. Piazza Sicilia si trova in zona Piazza Piemonte, per cui diciamo che dal punto di vista tecnico non è periferia, ma è semicentro, stando a quella che è stata fatta la cartografia di Milano da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'unica cartografia che divide dal centro storico al centro quattro semicentri e quattro periferie. E che cos'è che è successo? Municipio 7, forse. Municipio 7. Che cos'è che è successo? Che i genitori hanno protestato perché mancava questa dirigente scolastica, o meglio, avevano la dirigente scolastica assegnata, solamente che questa dirigente scolastica era solamente formalmente assegnata lì, ma era distaccata a mezzi in Francia e quindi non la vedevano mai. Allora, nel momento in cui si era prospettato che rientrasse, avevano lasciato passare l'anno, diciamo così, sabbatico, ma nel momento in cui hanno saputo che la dirigente continuava a rimanere in Francia, hanno protestato e in particolare ci fu un'iniziativa e finalmente ebbero la loro dirigente scolastica, l'associazione della loro dirigente scolastica. Però, qual è il però di tutta questa vicenda della serie Baggio è centrale o no a se stessa? Perché tutti, chiaramente, ogni quartiere punta a una propria centralità, ma questo qui è normale, cerchiamo di migliorare, di avere l'attenzione su noi stessi. Ma poi, se alle intenzioni non corrispondono le azioni, diventa una pura utopia, dove noi speriamo, però, non si modifica mai. Allora, che cos'è che è successo? Che la dirigente scolastica è stata formalmente assegnata alla scuola Primo Levi, che sta proprio a Baggio. Quindi, la consigliera Comunale De Marchi che aveva seguito la vicenda commentò una vittoria a metà. Ecco, ci permettiamo un attimino di riallineare questa frase, perché è stata una vittoria piena da parte dei genitori e della scuola, anche gli insegnanti e qualità, perché quando un corpo scolastico manca della dirigente scolastica fa sempre un pochettino di fatica. E lì hanno avuto una vittoria piena perché hanno avuto la dirigente scolastica assegnata. una grande sconfitta invece per Baggio. Il problema è che ha una grande vittoria e corrisposta a una grande sconfitta da parte della scuola media di Baggio che ha avuto poi una soluzione, diciamo così, di ripiego. Nel senso che la vicina scuola e la dirigente scolastica della scuola media vicina che cosa le hanno detto va bene, adesso ti occupi anche di Baggio. Siamo facendo funzione anche di là. Quindi diciamo che il lavoro che doveva fare per una scuola adesso lo fa per due scuole. Ecco, questo qui è il tema della centralità. Se non si esce da questa dicotomia proprio anche dal punto di vista dell'organizzazione e se non si pensa e non si riflette sul fatto che ci sono parecchi elementi esterni, parecchie istituzioni esterne che poi entrano a gamba tesa nel bene o nel male come in questo caso sulla vicenda delle periferie noi esattamente perdiamo di vista quello che è l'oggetto di quello che noi chiamiamo periferia e magari di quelle che sono tutte le disfunzioni che si accentuano maggiormente nelle periferie. Però proprio su questo Consulta Periferia Milano ha messo in bene un bellissimo percorso che è quello di Ascuoli Periferie che si è stato ad arricchire di una parte anche di percorsi perché appunto spesso e volentieri le periferie vengono raccontate ormai abbiamo sempre detto questo racconto questa voglia di centralità di se stesse quindi di conoscenza anche però che rimane spesso e volentieri chiusa poi nelle mura del quartiere appunto di periferia. Grazie a questo invece grazie al vostro operato incominciamo a vedere dei percorsi che attraversano uno o più quartieri uno o più periferie e quindi insomma anche questo è molto interessante capire come questa appunto città famosa città policentrica su cui bisognerà sempre di più andare e sappiamo benissimo i municipi essere da quello che sono mesi insomma che continuiamo a dire essere forse l'unico presidio giusto e definito che esiste già bisogna solo dargli il potere in mano insomma la scuola di periferia bisogna fare un bel passo in avanti verso questo tipo di organizzazione. diciamo che a scuola di periferie è stata strutturata Consulta Periferie Milano crediamo che in questi anni abbia promosso tra convegni seminari di approfondimento su temi periferici particolari però visti sempre in una visione complessiva perché vorrei ricordare una cosa Consulta Periferie Milano non nasce da un desiderio strano sulle periferie nasce da un precedente percorso che si era consolidato proprio nell'Ovest di Milano diciamo così tra gli assi di Via Lorenteggio e il QT8 in quest'area coinvolgendo anche 25 associazioni in quello che avevamo denominato così un po' impropriamente forse coordinamento Milano-Ovest ci siamo resi conto dopo numerosi anni di lavoro di cose anche interessanti di partecipazione da parte di tutte queste associazioni in maniera coordinata propositiva con moltissime iniziative promosse che il tema della periferia Ovest di Milano non si riusciva a risolvere all'Ovest di Milano per come era conformata una metropoli seppur piccola come Milano che male che vada ha un est un nord e un sud e quindi abbiamo dato un giudizio di lavoro dicendo questo strumento coordinamento Milano-Ovest una rete territoriale è sicuramente importante ma non è adeguata a rispondere all'obiettivo che avevamo quello di dare una struttura diversa per una maggiore attenzione sulle periferie perché qui così non si tratta di migliorare le periferie alcune periferie non hanno bisogno di particolari miglioramenti hanno sicuramente bisogno sempre di un occhio attento e di cura perché il livello che uno ha acquisito non lo può dare per consolidato deve essere sempre curato manutenuto ma soprattutto anche forse di essere considerate le protagoniste cioè se si va di periferie le protagoniste devono essere le periferie invece si va di periferie ma le protagoniste poi sono altre insomma questo è interessante questo qui e probabilmente anche altri che non hanno proprio il polso sulle periferie noi quando diciamo qualcosa sulle periferie perché uno abbiamo imparato ho citato prima dei libri ma su ogni libro ci abbiamo fatto un convegno abbiamo incontrato chi l'ha scritto di libri ne abbiamo approfonditi almeno una ventina giusto per stare sui libri nello stesso tempo noi che cos'è che associamo a questa acquisizione un percorso di lavoro è concreto sul territorio grazie a tutte le associazioni che promuovono consulta periferie in Milano che per esempio siccome un pochettino è il fiore all'occhiello anche se noi non siamo dei promotori musicali ma usiamo la musica per animare le periferie in questi anni abbiamo promosso oltre 700 concerti ad ingresso gratuito in 50 sedi territoriali anche nelle cascine agricole lì abbiamo potuto misurare qual è la struttura normativa regolamentare diciamo così burocratica per poter fare delle iniziative anche allora associamo a uno studio quello che è un percorso proprio sul campo e cerchiamo di metterlo insieme perché invece normalmente la riflessione e l'operatività rimangono un pochettino spaiate poi si fanno dei progetti si fanno delle sperimentazioni ma purtroppo per quello che è il ciclo normale anche delle amministrazioni cambiano i soggetti cambiano gli assessori insomma cambia un po' tutto molto spesso che cos'è che rimane? rimangono sempre fermi a progetti sperimentazioni non diventano mai politiche allora ritornando al tema dei percorsi la domanda originaria Sala il sindaco Sala appunto in questo inserto risponde alla domanda sulle periferie dicendo la vera sfida è come si può deviare una parte dell'interesse economico e del turismo nelle zone non centrali della città e questa la vera domanda pone la domanda allora dice ma qual è la risposta dice l'interlocutore allora se ci sono dei luoghi simbolo è più facile allora noi abbiamo un tema interessante qua allora se ci sono noi siamo con il suo ma non se ci sono i luoghi simboli ci sono noi prendiamo Aniguarda dove c'è speriamo che prosegua il test Aniguarda per le periferie abbiamo per esempio Villa Clerici con anche il museo contemporaneo dell'arte religiosa quindi ci sono tutta una serie di ricchezze scendiamo possiamo andare a Garignano dove abbiamo la certosa di Milano se scendiamo un pochettino ancora che cos'è che troviamo di fianco allo stadio San Siro noi abbiamo la presenza del cavallo di Leonardo quest'anno dovremmo avere la gente che fa la cosa di andare lì questo è il 5 centeso ci sarà probabilmente qual è il problema è che non c'è nemmeno una freccia che indichi guardate lì potete andare da quella parte piuttosto che lì potete andare da quell'altra allora per esempio tutti i mezzanini delle metropolitane e Milano ormai i mezzanini delle metropolitane ne ha un'infinità possono essere un indicatore il luogo dove c'è una freccia dove viene indicato il simbolo uno scende alla metropolitana 5 il cavallo di Leonardo ad esempio è quasi ridicola la situazione hai una fermata che si chiama Ippodromo a 50 metri hai lo stadio San Siro che qui diciano migliori di persone però non c'è l'indicazione che dica lì c'è una grandissima opera tra per Leonardo noi dobbiamo passare un pochettino dalle intenzioni a quelle che ascoltando e anche facendo sinergia quando parliamo di partecipazione noi preferiamo diciamo dare un'accezione di progettazione partecipata nel senso che diciamo sempre Milano è ricca di energie bene allora utilizziamole queste energie ma se ritorniamo al cavallo di Leonardo perché è un pochettino centrale da questo punto di vista ed indicativo allo stadio San Siro è il terzo museo visitato il museo dello sport del Milan e l'Inter ci sono andate nel maggio giugno scorso 74.000 persone però a 100 metri c'è il cavallo di Leonardo basterebbe una segnaletica una freccia che dice il cavallo di Leonardo da Vinci e la gente fa 100 metri in più e va a vedere la più grande statua che ci sia che se uno vuole andare a vedere un'altra che è uguale la trova negli Stati Uniti nel Michigan che nel Michigan è uno tra i 100 monumenti maggiormente visitati degli Stati Uniti d'America dobbiamo imparare molto da loro sai che loro sono quelli del paese con la sedia più grande d'America il paese con il gomitolo e riescono a fare il turismo con quella roba lì noi abbiamo un cavallo disegnato da Vinci la più grande è stata questa di Milano e noi riusciamo a farla visitare dai turisti il sindaco Sala ha citato anche scendendo ancora un po' più in basso il Marchiondi l'Istituto Marchiondi fatto dall'architetto Viganò è stato anche esposto il modellino naturalmente al MoMA al Museo di Arte Moderna di New York quindi diciamo che è un elemento abbastanza interessante ecco basta andare in fondo a Baggio a vedere in quale situazione è l'Istituto Marchiondi Libro della giungla tipo è lì lasciato a se stesso magari c'è qualche sistemazione perché è stato anche oggetto di vandalismo perché poi ci sono entrati di tutto e di più l'unico problema qual era che quando ha chiesto il Presidente del loro Consiglio di zona parliamo di oltre dieci anni fa ha chiesto va bene vado a vederlo per vedere qual è la situazione dagli uffici del Comune di Milano gli avevo detto no tu non puoi entrare al Presidente del Consiglio di zona che dovrebbe essere appunto il luogo più vicino al territorio quindi quello che se ne fa anche maggiormente carico e cura malgrado volesse farsene carico ecco questo qui è il tema anche dei nove mettiamoli tutti Presidenti dei Municipi che abbiamo anche incontrato recentemente in particolare nella giornata della legalità e della giustizia che si è svolta poco tempo fa nel Municipio 4 che sicuramente hanno delle idee hanno delle capacità perché non sono degli sproveduti tra le altre cose c'è un problema della classe politica diciamo così dell'associazione della classe politica però diciamo che ci sono anche persone che hanno raggiunto la presidenza di Municipio anche perché hanno fatto un certo tipo di gavetta se li dicevo una volta e quindi hanno anche il problema è che possono fare solamente delle proposte per esempio in zona 2 per ritornare sempre al tema turistico dei monumenti hanno detto bene hanno lanciato un bando per fare la segnaletica in zona 2 delle cose più interessanti da vedere ecco su questo noi torniamo a scuola di periferie abbiamo strutturato a scuola di periferie proprio come una normale scuola dove ci sono tutte quante le materie e quindi c'è anche l'arte sull'arte abbiamo individuato un percorso che adesso ha quattro puntate in particolare nella biblioteca Arara vicino a San Siro nella biblioteca rionale Arara dove abbiamo focalizzato quattro puntate abbiamo fatto quelle dei percorsi dell'Ovest adesso faremo successivamente quelle dei percorsi del Nord e poi dell'Est e del Sud proprio individuando in quella lezione lì verranno fatte delle proposte di percorso che possono essere fruibili innanzitutto noi diciamo da chi ci abita perché i primi a non conoscere Milano sono un pochettino milanesi ma sicuramente anche i turisti i turisti che vanno a risiedere nei molteplici alberghi che non sono tutti in centro ma anche in periferia avrebbero la possibilità di tornare a casa loro dicendo ho visto il luogo ho visto la galleria il cenacolo e la scala e anche lo stadio ma poi ho visto anche proprio l'istituto Marchiondi ho visto la certosa di Milano e ecco arricchendo ma arricchendo anche il tessuto sociale ecco su questo abbiamo fatto un percorso specifico perfetto Walter allora siamo in chiusura in inclusiva come fida però in municipio 2 con il bando dei cartelli adesso hanno lanciato un bando quindi per dire che sul territorio anche da parte delle amministrazioni locali che fatto 100 il potere che dovrebbero avere per per ritornare come i vecchi comuni da questo punto di vista accogliamo e coglieremo una così no anche una una proposta che è stata fatta qualche giorno menolta la suggestione qualche qualche giorno fa a Niguarda dal locale comitato di quartiere Niguarda che ha posto attenzione durante una riunione al 2023 perché il 2023 ricorre il centenario dell'annessione dei comuni limitrofi a Milano appunto al comune fatta nel 1923 maggio afori di guarda lambrate chi più ne ha più ne metta sono la dozzina di contori comasina forse non era ok allora c'era afori comune di apoli allora questo sarà uno dei riferimenti diciamo così storici ma per fare una riflessione di com'era organizzata l'amministrazione comunale cento anni fa di com'è organizzata l'amministrazione comunale oggi e quindi per certi aspetti in un ritorno al passato noi dobbiamo cercare di strutturare le amministrazioni decentrate in municipi all'interno del comune di Milano con dei poteri proprio di agibilità dove un presidente di municipio possa andare a vedere un bene demaniale che magari crea un fracco di problemi a tutti coloro che ci abitano intorno ecco quindi a scuola di periferie poi si muove anche su un altro filone una materia più di organizzazione dove proprio a partire dal governo delle città e delle sue periferie con appunto fondazione di guardi consulta periferie Milano ma anche un'importante interessante partecipazione e aiuto da parte dell'associazione studenti Bocconi in XPA che sta per amministrazione pubblica futura e che ci danno una mano in questo tipo di percorso faremo quattro puntate dove chiameremo a raccolta sia i docenti che in particolare alcuni di questi il mondo dell'università è stata coinvolta nella Milano City School nella City School che verrà fatta vorrà fare al Politecnico proprio una facoltà per preparare i futuri diciamo così gestori delle città perché oggi ognuno si improvvisa un po' fai da te ma gestori della città famosi city manager dovevano fare anche a scuola ecco noi chiaramente non facciamo una fotocopia di quella che è il lavoro già della City School di programmazione ma vogliamo associare quello che è l'arricchimento da chi opera sul campo perché una visione e anche una soluzione dei problemi possa essere data alla luce delle esperienze anche pratiche ma anche conoscenze di quelle che sono le strutture organizzative perché poi le fregature diciamo così le difficoltà stanno proprio nei dettagli il dettaglio particolare dicevamo il presidente del municipio allora del consiglio di zona è interessato a un bene che c'è sul proprio territorio però la normativa non gli consente nemmeno di andare a vederlo adesso abbiamo banalizzato in questa situazione ma così stiamo a vedere Milano appunto 1923 2023 insomma un bel spunto e interessante riflessione che possiamo portare avanti in maniera interessante perfetto siamo in chiusura io ti ringrazio anche per aver gestito la situazione anche nel momento di crisi quindi sono grazie mille davvero quando c'è il conduttore sicuramente è meglio bravissimo che sei giusto a gestire tutto quanto e ti ringrazio davvero tanto ci vediamo martedì prossimo ancora con la 69esima puntata di con consulta con 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 grazie a voi grazie a tutti voi che ci avete seguito con il mondo in milano tornando invece domani alle 12.30 sempre qui in diretta su milano all news grazie mille arrivederci a presto